In principio, Shao Kahn invase Edenia, uccise mio marito Gerrod e mi costrinse a sposarlo. Almeno, questa è la versione che tutti conoscono. Ma era solo una menzogna, inventata da me per non perdere la fiducia dei sudditi e di mia figlia, Kitana. La verità, Gerrod era un debole, destinato a fallire. Tradendolo, ho trovato un amante migliore e un alleato formidabile. Un conquistatore in grado di unire i regni e sottometterli al mio volere. Finché Kronika non ha sovvertito il tempo, proiettandomi in un futuro in cui ero ormai morta da secoli. La mia famiglia mi aveva tradito sotto ogni punto di vista. Soprattutto Kitana. Invece di unire i regni, ha tentato di liberarli. Come se i selvaggi delle lande potessero aspirare a una qualsivoglia dignità. Da madre premurosa, ho dovuto punire la mia piccola principessa. E dopo di lei, ho dovuto mettere in riga una titanide. Adesso ho sconfitto Kronika. Ho superato Shao Kahn e Kitana. Non ho più una famiglia. Né rivali. O altri dèi. Io domino tutti dall'alto, seduta su un trono che riunisce i regni e tutte le realtà. Chiunque tu sia, da ovunque tu provenga, al mio cospetto devi inginocchiarti. Perché io sono Sindel, imperatrice del tempo. E tu esisti solamente per servirmi. Invece di un'alto, seduta su un'alto.